Ciao a tutti carissimi dal doc, attenzione è la seconda puntata del podcast, devo dire che quando ho fatto il primo episodio non pensavo, non ero così sicuro di dargli un seguito, però devo dire che ha avuto successo maggiore di quello che pensavo e quindi io stesso sono iscritto a tanti podcast e se devo iscrivermi a un podcast che ha solo un audio, diciamo così, manco mi sto a iscrivere perché dico, mamma mia, è totalmente abbandonato. Quindi questo sarà il secondo podcast e vedremo un po' se, chissà, sarà il primo di una lunghissima serie, spero sia così, però solo il tempo ci darà ragione. Andiamo subito al sodo, in questo podcast parleremo di diversi metodi, non pochi, per velocizzare uno smartphone Android. Vi dirò, i metodi che menziono sono tutti quanti gratuiti, quindi non vi chiederò di sborsare soldi per velocizzarlo e quindi ve li andrò a illustrare. Quindi, intanto partiamo con una piccola introduzione perché quante volte vi può essere capitato che siete andati da un amico o magari avete una festa così tra amici e volete fargli vedere a un amico, un gruppo di amici, un video, una pagina web, un'app che visualizza un qualcosa così di interessante, ma non accade nulla. Nel senso, andate lì, lo smartphone è lì che macina, 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 non succede niente e quindi poi dopo, come dire, la situazione è scema, non è scema la situazione, ma scema nel senso l'interesse da parte della gente perché è tutto lento, lentissimo e quindi poi dopo, voi che volevate fare i fighi per far vedere qualcosa di interessante, fate la figura dei cucù. Mentre gli amici vi fanno le battute sulle prestazioni del vostro telefono e quindi forse non è proprio il top. Oppure, diciamo, un'altra situazione, siete collegati, non so, con un wifi, in wifi con un modem lì vicinissimo che magari dista solo a un metro, ma non succede nulla. Le pagine continuano lo stesso, inesorabilmente, ad aprirsi lentamente. Allora, non dovete sentirvi soli nell'universo perché tutti questi scenari che vi ho descritto sono assolutamente normali. Quindi, così com'è normale che con il passare del tempo, uno smartphone che sembrava avere delle buone prestazioni, lentamente, gradualmente, inizia a peggiorarle con, diciamo, tutto quello che ne consegue e tutti gli sbattimenti del caso. Ovviamente, un telefono economico, solitamente, si può rallentare, come dire, da solo, già nell'arco di pochi mesi, a forza di installarci app, magari anche a causa di alcuni aggiornamenti un po' pesanti, che non riesce a, come dire, a reggere per bene. Tuttavia, ovviamente, anche uno smartphone costoso, se non utilizzato a dovere, rallenta. E quindi, niente, con questa lunghissima introduzione andiamo a vedere insieme alcuni metodi per velocizzare Android. Allora, dunque, vediamo un po' insieme. Allora, innanzitutto, chiudere le app non in uso. Prima cosa, ovviamente, è una delle cose più semplici possibili, ma che non fanno in tanti, in realtà. Quando voi aprite un'app, questa rimane, come dire, sempre aperta in background, quindi continua a consumare memoria del vostro telefono. Quindi, dovete premere il menu, solitamente il quadrato in basso a destra, il pulsante in basso a destra, che vi farà vedere tutte le app aperte sul vostro telefono e chiudetele, chiudete tutte quelle che non vi servono. Io, a volte, mi ritrovo magari con smartphone, che magari hanno aperto, che ne so, l'app di Facebook, l'app del Meteo, l'app magari di Google Chrome, tantissime robe. E, ovviamente, tutto questo va comunque a un po' rallentare il telefono. Altro consiglio, cancellare la memoria cache delle app. Le app memorizzano, all'interno della memoria cache, tutte quelle informazioni che consentono di, come dire, velocizzare l'apertura dell'app stessa. Tuttavia, con il tempo, si possono accumulare un eccesso di dati. Quindi, la cancellazione potrebbe dare una mano a darci un po' di gas a tutta questa situazione. Per cancellare la memoria cache, potete andare in impostazioni app, selezionare l'app che desiderate, poi dopo memoria e avrete una voce che si chiama cancella cache. In alternativa, potete scaricare e installare l'app Files, di Google, che è un'app gratuita, e vi aiuterà a fare, come dire, a scaricare, pardon, non a scaricare, a cancellare tutti i dati della memoria cache. I link di queste app, anche di quelle che vi menzionerò più tardi, li trovate tutti nel link dell'episodio sul mio sito, ildottoredeicomputer.it. Li troverete tutto dove scaricare. Altra cosa, cancellare i file obsoleti dallo smartphone. Terzo consiglio, perché comunque si accumulano con il tempo tanta robazza sul telefono. Quindi, rischiate di andare a occupare memoria. Potete utilizzare anche qua l'app Files, di Google, che è un'app molto veloce, che fa un po' di pulizia e la fa bene. Oppure, volendo, potete anche valutare, ovviamente il vostro telefono, dovete verificare che lo supporti, l'aggiunta di una scheda microSD. Il costo dipende dalla dimensione, ma va dai 10 ai 30 euro circa. Prima date un'occhiata sul manuale del vostro smartphone per vedere se lo supporta. Solitamente lo supporta. Altra cosa da fare è disattivare Bluetooth, Wi-Fi, GPS e tutto il resto. Per disattivare, ovviamente disattivarli se non li usate, per disattivare il Bluetooth, il Wi-Fi e il GPS, con il dito dall'alto verso il basso fate scendere il menu a tendina e iniziate a disattivare un po' di roba che non usate. Questo, tra l'altro, migliora anche la batteria, migliora le prestazioni della batteria. Batterie che ci può interessare molto in questo quinto consiglio, perché potrebbero esserci anche delle app che consumano molta CPU, utilizzano molto processore e quindi di conseguenza fanno potenza di calcolo e consumano la batteria alla grandissima. Andando in impostazioni, batteria, utilizzo batteria, potete vedere tutte le app che consumano più batteria e se volete potete anche interromperne l'esecuzione. Ovviamente, se il vostro smartphone, notate che non arriva a fine giornata, una possibile soluzione può essere quella di acquistare il power banking, ovvero quella batteria esterna che vi fa alimentare il telefono anche quando siete fuori casa. Può essere di grande aiuto e le dimensioni ormai rispetto al passato sono estremamente ridotte, quindi potete facilmente metterle nella tasca dei pantaloni o in un cosiddetto borsellino. Altro consiglio, rimuovere i widget, i widget sono in sostanza quelle app virtuali che sono aperte sullo schermo dello smartphone che vi fanno vedere informazioni in tempo reale, ad esempio il meteo, gli indici di borsa e anche se non sono widget, facciamo entrare dentro questo grande calderone e anche gli sfondi animati. Ogni volta che il vostro smartphone carica la schermata principale, tutta o comunque tanta potenza di calcolo viene utilizzata per aggiornare tutti i widget che sono utilizzati. Quindi rimuovete il mio consiglio, se avete la schermata principale dei widget che consultate una volta ogni mortal papa, per non dire mai, rimuoveteli dalla schermata principale. Settimo consiglio, ovviamente riavviare il telefono. Ho scoperto che non poche persone non riavviano mai il telefono perché loro la sera lo mettono in modalità aereo oppure in non disturbare. In realtà spegnere e accendere il telefono come per un qualsiasi pc windows è di grande aiuto perché tutte le app presenti si chiudono completamente e in questo modo si libera la memoria utilizzata. Per riavviare il telefono vi basta premere il pulsante di accensione e tenerlo premuto per qualche secondo e vi comparirà una finestrina con scritto riavvia. Ovviamente tutti questi pulsanti che vi dico sono legati a certi smartphone. Alcuni smartphone possono avere magari una posizione diversa del menu. Comunque prendete per buono il consiglio, riavviate il telefonino. Altra cosa, ottavo consiglio, tenete a mente che ci sono delle app che consumano poco sullo smartphone. Ad esempio, sapevi che Facebook consuma tantissimo. C'è un'app alternativa che si chiama, ma fatta sempre da Facebook, che si chiama Facebook Lite, Facebook Lite si scrive. È stata realizzata per i mercati emergenti, però i mercati emergenti perché hanno degli smartphone con scarse prestazioni, tuttavia è di grandissimo aiuto per tutti quelli che hanno smartphone che stanno andando piano. Vi dirò, utilizzare un'app Lite, come può essere Facebook Lite, Messenger Lite, Skype Lite, potrebbe essere che non noterete così tante differenze rispetto invece a quella più corposa. Quindi, ennesimo consiglio, rimuovete Facebook, Messenger, Twitter e installateci la versione Lite. Facebook Lite, Messenger Lite. Idem per Google. Le app di Google ci sono le versioni, come dire, leggere, che finiscono per Go, G-O, Genova, Otranto. Quindi potete trovare Google Maps Go, Galleria Go. Fateci caso e eventualmente installatene. Altro consiglio, ovviamente, aggiornare lo smartphone. Molto spesso può capitare che magari qualcuno non voglia aggiornare lo smartphone perché, per le ragioni più svariate, in realtà, un aggiornamento migliora la sicurezza del telefono e può andare a risolvere tutti quei problemi intrinsechi all'interno del sistema operativo. Io consiglio sempre di aggiornare il telefono. Decimo consiglio, forse devo dirlo da subito, eliminare le app inutilizzate. Tutte quelle app che non utilizzate da diversi mesi, ficcatele via nel cestino, buttate via tutto. Considerate che anche un'app inutilizzata può consumare in background, dati, memoria, CPU, batteria. Quindi fatele sparire. Eventualmente, se avete qualche dubbio, tenete a mente che in un qualsiasi momento, se prossimamente mai ne avrete di nuovo bisogno, un'app la potete sempre reinstallare in qualsiasi momento. Eventualmente annotatevi là da parte le password, se per caso ci sono. Undicesimo consiglio, se avete delle app di ottimizzazione, vi consiglio di valutarne la rimozione, perché Android già di suo ci pensi in automatico ad automatizzare al meglio la gestione della memoria. Dodicesimo consiglio, disabilitare le animazioni. Nello smartphone ci sono tante animazioni, per magari far vedere le schermate che passano da una schermata all'altra, le transizioni che ci sono da una schermata all'altra. Vi consiglio, in questo articolo trovate tutto, come disattivare le animazioni. Bisognerà andare all'interno di opzioni sviluppatori in Android, ma anche qui. Date un'occhiata al link che metto a corredo di questo podcast, dove troverete tutto quanto. Idem, per limitare i processi in background. È possibile dare un tetto massimo dei processi che sul telefono funzionano in contemporanea. Potete mettere un numero, io vi consiglio di mettere un massimo di due app in contemporanea. Addirittura si può anche disabilitare tutto. Però, come dire, qualche app che possa andare in background, spesso è meglio che ci sia. Quattordicesimo e ultimo consiglio, se proprio così non dovesse andare, fate il ripristino alle impostazioni di fabbrica. Perderete tutto, quindi prima dovete fare un backup, ve lo consiglio, ma vi tornerà il telefono come quando l'avete acquistato. Se poi anche facendo un ripristino alle impostazioni di fabbrica, tutto dovesse andare da schifo, allora qua dovete forse mettere mano al portafoglio e comprarvi un smartphone nuovo. Carissimi, vi saluto. Vi ho buttato 14 consigli a raffica per velocizzare lo smartphone, il vostro smartphone Android. Spero vi siano di aiuto. Vi mando un carissimo saluto. Continuatemi a seguire il dottoredicomputer.it, sito tutto nuovo rifatto di recente, pagine social ovunque. Carissimi, statemi bene. Ciao dal Doc. Ciao dal Doc.